Dire che prima di tutto la nostra proposta non è stata presentata semplicemente come un aiuto economico ai cittadini ma una misura che in sé ha numerosi benefici perché bisogna tenere conto anche appunto delle ricadute ambientali del fatto di poter utilizzare maggiormente i trasporti pubblici. Questo non è stato assolutamente preso in considerazione nelle risposte e in ogni caso le obiezioni anche giuste che l'assessore ci ha appena elencato potevano semplicemente essere dette nel senso che va bene magari non abbiamo preso in considerazione tutto però appunto quando si tratta di dialettica e di politica basta semplicemente fare delle osservazioni, tacciare e rigettare in pieno una proposta che appunto ha diversi contenuti e ricadute positive lo troviamo di pessimo gusto è una pessima abitudine ma ognuno fa naturalmente come gli pare.